Coach, finalmente si parte anche se effettivamente siete già partiti tanto tempo fa. Sì, sono partito da anni, ma di testa però, quindi ho un vantaggio. A Sassi hai partito la panza, a lui sono partiti i Zebedei, quindi... No, sono contento a partire di scherzi, sono contento perché abbiamo costruito una squadra che a me piace, mi hanno accontentato e mi metto ancora più pressione di quella che già ho, nel senso che da qui all'inizio del campionato, piuttosto che da qui in avanti, qualsiasi cosa andrà storta sarà colpa mia, perché è così, perché un allenatore può solo far danni e quindi se dovesse andare storto qualcosa, irresponsabile non posso che essere io. Però sono enormemente entusiasta, non perché penso di avere delle capacità spiccate, ma perché ho intorno qualcosa di importante, intorno e sono contento di essere proprio qui a parlarti, a parlarvi, perché c'è un palazzo dove sostanzialmente so che è molto bello e anche magari più semplice che da altre parti giocare a palacanestro. In più, in questi giorni ho parlato spesso di Vesco, di quanto sia capace managerialmente, di Simone che è riuscito a contentarmi al 100% nella costruzione della squadra. Diciamo che in questo periodo storico invece sto apprezzando enormemente il lavoro di Max Faraiolo che per una serie di motivazioni è perfetto. di Varese ha enorme passione ed è enormemente, condivide enormemente quello che è il nostro progetto, il progetto sia di squadra che di società e poi è un ex giocatore, quindi diciamo che è veramente la persona perfetta per ricoprire il ruolo che sta ricoprendo. Poi ho due assistenti psicopatici, però si accoppiano benissimo con il capo allenatore. La sensazione in generale ad uno è comunque quello che mi aspettavo, che qui comunque c'è un sacco di gente che ci tiene, che comunque è un'organizzazione come può essere quella di Varese e le mie aspettative, insomma, io sinceramente ho voglia di iniziare, ho voglia di poter sfruttare un'occasione e di far bene come anche altri ragazzi qua mi pare di capire che vogliono fare, anche il coach mi pare di capirlo, quindi niente, sono molto motivato. Senti, allenatore, coach Gianmarco Pozzecco, cosa ti aspetti da lui? Ti hanno detto qualcosa? No, mi aspetto da lui più che altro il fatto che lui capisce di stare al di qua del bancone, insomma, in sostanza, di stare in campo, come vivere la vita e quindi questa cosa qui secondo me è fondamentale perché quando hai una persona che capisce questa cosa qua allora poi tutto diventa più divertente e tutto viene meglio, secondo me. Una promessa ai tifosi? Da buon toscano prometto di metterci tutto il cuore del mondo perché comunque sono sanguigno, sono toscano, ci tengo e niente, poi il resto, non facciamo troppe promesse che poi magari uno esagera. Honestamente, sono un po' tired perché avevamo la pratica in un mattino e Marco ha ucciso, ma mi sento bene, in realtà. E' stata la mia decisione di arrivare qui perché mi piaceva qui, ho avuto una buona esperienza, buone memorie, quindi sono felice di tornare. What? I don't know, nobody told me yet, like I told me, some journalists before, if I'm going to be a captain, it's great, if I'm not, I'm not disappointed. About the coach, I'm really, really excited what's going to happen with him because, I don't know if he's crazy, but he's got so much energy, he's fun and so on, so I think it's going to be a good and really, buona settimana, ma per la squadra, c'è ancora un paio di ragazzi che sono perdita, quindi stiamo cercando di vedere quando la squadra è completata, come si va a andare. Il mio obiettivo? Penso che abbiamo bisogno di vincere tantissime come possiamo, quindi questo è il nostro obiettivo. Noi abbiamo bisogno di vincere le migliori e ricche le squadre ogni volta che abbiamo la possibilità.